Il momento migliore per piantare un albero era vent'anni fa, invece l'altro momento migliore è adesso. Ci sa che i nostri impegni non ci fanno più di tanto pensare a qualcosa che magari ci piace e noi che non possiamo fare perché non abbiamo un minuto. Invece se noi qualcosa lo identifichiamo e magari facciamo il primo passo per completarla, è già come dire chi ben comincia è a metà dell'opera. Ed è vero che è sempre così, per provvedere dei movimenti che aiutano ad alleviare il mal di testa, chi non ce l'ha, per una tensione al collo o alla testa. Allora andiamo a praticare, questa digitopressione per tentare in ogni modo di alleviare, o se proprio non ci passa, cerchiamo la pagina qui, vedete nell'incavo dalle mani e andiamo sempre a pinzare fino a quando poi non ci sentiremo meglio.